o dunque eccoci cosa siamo tornati dopo il video la seconda parte sul nostro tavolo intanto sono molto contento di aver fatto questa sorta di prova appunto tre video caricati nell'intera settimana più o meno quindi sono molto contento in modo che ho avuto modo di andarvi un po a parlare bene del del titolo più che altro a farvi vedere tutti i vari aspetti abbiamo visto la prima parte panoramica del gioco dove ho spiegato un minimo il concetto del gioco più siamo andati a vedere cosa molto essenziale almeno per quel che mi riguarda i componenti del gioco perché una cosa che mi piace molto vedere possibilmente dai video no dalle video recensioni perché è un po una curiosità quali sono i componenti del gioco cosa offre la scottola base ok si l'abbiamo visto con l'unboxing però non vi ho detto allora questi sono i siluri possono essere di un tipo di un altro queste sono le varie navi che possiamo incontrare durante vari pattugliamenti questi sono le capito ship questi sono le medaglie che possiamo andare a ottenere durante la nostra carriera militare eccetera eccetera questo ovviamente non ve l'ho fatto vedere quindi i componenti e detto questo è a questo è b e questo è c ecco quindi questa è una cosa che a me piace molto soprattutto la curiosità mia quando vedo una recensione a vediamo un po come i contenuti perché perché il primo impatto per me è importante a me un gioco da tavolo sia un board game o un gioco da tavolo ovviamente il primo impatto per me quello che conta è ovviamente la componentistica e come appare sul tavolo del gioco se un gioco mi colpisce graficamente stilisticamente sono molto più invogliata andare a vedere allora le regole se invece non mi colpisce molto allora ti dico insomma ho già meno voglia di andare a vedere però magari posso dire ok magari non è tutto questo vediamo giusto qui 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 cinque minuti appunto per vedere di cosa parla già la componentistica magari non mi fa impazzire però magari dalle regole allora quello quello sì ecco e poi abbiamo visto la seconda parte sul nostro tavolo quindi ovviamente più che tutorial veri e proprio anche perché sono sempre appunto lo ripeto in esperto ma far vedere un tutorial completo di questo gioco è un po è un po riduttivo non ha molto senso perché spesso io vedo in video del genere utenti che scrivono sì ok c'è spiegato le regole c'è spiegato il tutorial ma un turno un esempio di gioco ce lo fai vedere com'è che funziona perché io non ho ancora ben capito com'è il flusso di gioco eccetera quindi senza star via allungare troppo sull'aspetto tutorial che può essere interessante ma non può essere interessante perché tutorial ragazzi se non lo compro interessato guarda il regolamento e quello che io tante volte mi chiedo ma ho detto che il tutorial va bene lo spieghi come spieghi tutti i vari aspetti del gioco ok ma un esempio di turno un paio di turni per vedere come il gioco il turno come si svolge come per avere un'idea del gioco come che si svolge non no quello no è solo tutorial passo passo che ed ecco perché appunto nella seconda parte vi ho fatto vedere sicuramente come avviene un pattugliamento più o meno è un pattugliamento e mezzo tra l'altro mi sa che ho sbagliato perché non vorrei aver ricordato male io che non è possibile utilizzare la deck gun cioè la meteo radiatrice posta sopra il ponte del sottomarino se stiamo affrontando una nave con la scorta ora se sbagliato ok non è un tutorial era un esempio per farvi vedere come il flusso e se sbagliato sono contento di aver sbagliato perché così vi ho fatto vedere in un combattimento che differenza c'è tra sparare con il siluro e con la deck gun abbiamo visto comunque il gioco come funziona avete visto un gioco spettacolare veramente qualcosa di incredibile ma ora questo magari lo dico perché può essere la mia prima la mia prima il mio primo gioco vero gioco comprato board war game solitario quindi anche primissimo gioco della gmt comprato quindi sono un po così comprato che tra l'altro non sapevo assolutamente niente diciamo dei mondi sottomarini se non a livello di videogiochi però io sono rimasto molto molto colpito dal gameplay perché io ho un gameplay molto molto semplice l'avete visto anche nella sezione sul nostro tavolo è un tiro di dato continuo no avete visto appunto essendo solitario ovviamente bisogna dare un una meccanica un qualcosa un meccanismo che ci faccia andare a scoprire mano a mano appunto che cosa succede durante i puntugnamenti quindi il turno avete visto è semplice si parte travel box e quindi appunto si prosegue nel percorso si tirano due dadi che cosa abbiamo trovato se abbiamo incontrato una nave nemica a prescindere dal tipo che si affronta in un combattimento cercando di affondarla se non si trova nulla si prosegue con il prossimo travel box quindi il nuovo travel box si ritirano i dadi eccetera eccetera poi alla fine tutto un tiro di dadi principalmente due di sei per vedere appunto se ci hanno scoperto se ci attaccano quanti quanti colpi subiamo se ci attaccano che cosa ci hanno danneggiato attacchiamo noi l'abbiamo colpito se abbiamo colpito con i siluri hanno fatto cilecca no quanto danno hanno fatto è tutto un tiro di dado su tabelle con tutti i vari cosiddetti drm cioè dai roll modifire modificatore al tiro di dado che possono essere positivi oppure negativi ovviamente quindi con questo semplicissimo tiro di ladi si riesce a creare un flusso di gioco che è in realtà anche più più veloce di quel che sembra comunque alla fine è sempre avete visto molto molto semplice il tour nel sistema di gioco la parte bella quando si entra nel combattimento allora lì bisogna cercare di capire come funziona o per vedere come funziona a che distanza colpiscono che tipo di nave è quanti danni gli serve per essere affondata li sparo a una distanza media li sparo a distanza standard o vicina che ok ho possibilità che mi scopri ma è possibilità di colpirla perché ovviamente come anche nella realtà più vicino sono al bersaglio più possibilità di colpire il bersaglio ma anche più possibilità che l'avversario mi scopra che ci sono io ovviamente che c'è un sottomarino italiano che lo sta attaccando quindi abbiamo tutta questa serie di analisi avete visto molte 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 scelte tattiche da da fare ok a che distanza lo colpisco quanti siluri sparo ho sparato la prima salva se non c'è la nave di scorta posso sparare di una seconda salva è il giorno notte se notte conviene fare un attacco in superficie in modo da avere più possibilità magari di colpirlo di cosa cioè ci sono tante quindi diverse possibilità che di scelte tattiche da fare che sono molte ed è bellissimo lo ripeto magari sono di parte perché il mio primo vero autentico board wargame per carità ci mancherebbe altro però io quando l'ho preso tutto va bene prendiamo mi ha colpito molto il gameplay che ho visto su youtube prendiamo regolamento lo metto lì io non sono arrivato durante la mia prima prova ci sono stati due ore e due ore e mezzo nemmeno alla fine del primo fatto di capire bene allora questo così legge il paragrafo legge quello legge quell'altro ovviamente con il il gioco già apparecchiato e c'era il punto di gioco apparecchiato leggevo e facevo le varie azioni perché altrimenti non se ne esce vivo da questi giochi qui o fai così e quindi procedi passo dopo passo e non dico step by step perché sono italiano e quindi mi dispiace dirlo ma lasciatemi anche utilizzare un po di termini italiani quindi uno procede passo dopo passo e vedi piano piano come si affronta appunto il gioco altrimenti non lo leggete nemmeno abbandonate già il gioco perché se pensate di leggere tutto quanto il regolamento come un wargaming dimensionale ragazzi o direte quel gioco e o direte quel gioco perché è il metodo totalmente sbagliato per imparare un gioco di questo tipo qua e avevo visto che ok interessante interessante però ho detto c'è qualcosa che non mi convince va bene per l'ho visto come il flusso di gioco detto siccome c'erano e questo punto non fa il regolamento giusto un paio due o tre punti un po scuri che regolamento non spiegava bene io ce l'ho detto va bene ho detto ho capito meno male il flusso di gioco com'è magari mi vado a vedere di nuovo quel video tutorial in inglese purtroppo chi perché non ho ben capito quelle due cose una volta che ho visto il tutorial l'ho riprovato ho visto che c'era anche la parte del refit cioè del del della manutenzione del sottomarino che quando torni dal 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 pattugliamento che dura uno o due mesi in base al tipo di classi che avete scelto il sottomarino di base dovete stare un mese in refit cioè un mese al porto per la manutenzione quindi voi per un mese non andate in portugliamento più ulteriori mesi se avete subito più o meno danni gravi o quant'altro io ho detto io ho fatto tutto porca miseria questa parte l'avevo totalmente saltata non credevo nemmeno che che c'era quindi questa cosa mi ha mi ha mi ha mi ha piaciuto ancora di più nel vedere che era così dettagliato questo gioco poi prova dopo prova io ho detto cos'è questo spettacolo di gioco che io credevo ed è incredibile come un gioco del genere che avete visto no pedine di cartoni che rappresentano cosiddetti counter no pedine di cartoncino rigido bello spesso che rappresentano sottomarini le navi nemiche e tutti i vari pedine appunto che rappresentano i vari marker token che vanno indicare air quello del range quello del seggiorno notte quello dell'incambio tutta roba cartoncino e io ho detto è incredibile come un gioco del genere sia molto più realistico e simulativo e fino a un certo punto è perché poi ovviamente ci sono board war game che sono molto più complessi stimolativi rispetto ad altri prodotto è credibile che sia molto più realistico e simulativo di un board game tridimensionale oppure di un cavolo di gioco da tavolo ok perché il bello di questi giochi il bello di questi giochi sono giochi di nicchia molto di nicchia perché appunto vanno a sacrificare l'aspetto visivo l'aspetto grafico in favore di un più completo realismo realismo storico e simulazione a me questa cosa fa pensare molto sapete cosa a quei videogiochi dove uno che guarda magari che vi posso dire un tripla no di questi tipo un call of duty che c'è questa grafica bellissima iper realistica con delle esplosioni le cose delle guerre effetti di luce che dice bellissima poi magari va a vedere il gioco il gameplay di un altro gioco che magari un indi e dice cos'è questo questo schifo qui o questa grafica che sembra ps 1 è brutto quindi magari lo va a scartare a prescindere perché appunto dice no è molto più bello il call of duty perché ho detto con obiettivi per dire qualsiasi gioco da tripla ecco perché è molto più bello visivamente ed ok d'accordo chi anche l'occhio vuole la sua parte come si dice però magari quel giochetto indie che magari costa anche 15 20 euro rispetto ai 60 70 euro di un tripla magari nasconde una complessità e un realismo a un livello simulativo che ti plastra se lo sogna volete degli esempi di questo tipo di videogiochi prendo un attimo una parentesi un project zomboid project zomboid è un gioco di survival zombie che resident evil se lo sogna il realismo che c'è se lo salvare se pro c'è sonboid ok alla grafica e costa 16 euro a una grafica se andate a vedere che ho detto cos'è questo questo giochettino qui con la visuale dall'alto che ok con il giochettino con la grafica brutta andate a vedere qualche gameplay o qualche immagine credo che sia il gioco survival horror con i zombie attualmente più simulativo difficile realistico esistente sul mercato volete un altro esempio di questo tipo qua volete presente i gestionali di costruzione di città tipo un sim city un city skyline belli si bellissima la grafica volete un gioco un po di survival un po più interessante intrigante anche realistico e anche più difficile rimworld ne volete un ancora più complesso e macchinoso ma credo che sia questo il gioco più il gestionale gioco di gestione alle barri supervivenza alla rimworld però ancora più complesso profondo strategico e realistico di rimworld dwarf fortress dwarf fortress sarà da vedere di base perché un gioco free ok dovrebbe uscire su steam ma non si sa ancora quando chissà quanto ci vorrà dwarf fortress che è un gioco di gestionare di una di di una colonia di nani cioè di una fortezza nanica dove noi dovremmo partire con una spedizione di sette nani e andare a costruire una fortezza nanica a prosperare costruire preparare difesi perché se ci vengono società con gli goblin gli orchi gli elfi tutto quanto ok originariamente quel gioco ha una grafica ascii ossia una grafica alfa numerica dove ogni simbolo della tastiera che vedete è qualcosa la lettera t la doppia t piccina quello fatta tata tata vuol dire che quello è un tavolo ok il simbolo magari del della freccia quella triangoletti il triangolo il piccolo triangoletto che è fatto così che vanno in su vuol dire che lì c'è una collina che vanno in secca c'è una salita la grafica è quella poi ovviamente sono usciti vari modback sempre gratis che gli danno un minimo di grafica però quello è il gioco e il gestionale più realistico difficile macchinoso anche perché è complesso che esista al mondo che secondo me si rimane da dare una grafica anche soltanto alla sim city secondo me il pc con tutto il calcolo che fa esplode perché quel gioco non solo ti va a creare appunto il mondo come fare il mondo no ti va a creare la storia dell'intero mondo dagli arbori del mondo quindi appunto le prime civiltà le guerre le battaglie ti crea tutti gli animali le storie ti crea la storia dei grandi guerrieri degli eroi epici che hanno combattuto battaglie ma anche a distanza di migliaia centinaia migliaia di anni fa rispetto a quando ti cominci il gioco e ti crea un mondo totalmente gioco tra l'altro totalmente in 3d e non è come remord che in 2d e in 3d qui ti può costruire in alto può andare sotto terra può costruire una cosa in 3d con la grafica ovviamente ascii o comunque con il modpack ok però ha una grafica vedete brutta o scena che fa schifo perché non hanno nemmeno una grafica ok l'aschi ma molto più stimolativo e realistico di qualsiasi altro gioco gestionale esistente attualmente sul mercato e i board war game sono esattamente questi vanno a sacrificare la bellezza visiva in favore di un realismo di una complessità e di un realismo ma anche una correttezza un una precisione storica che lo mettono davanti rispetto alla bellezza grafica è ovvio che vedere un bel bolt action un bel warhammer rige of sigma no warhammer 40.000 è molto più bello ok che che vedere magari un gioco tipo benefit the man perché ovviamente lì c'ha le miniature c'hai miniature è in 3d che si muovono e che vengono mosse su un campo di battaglia con elementi scenici 3d poi ovviamente si sono fatti molto molto bene gli elementi scenici ancora molto più bello quindi vedi giocatori che tirano che misurano le distanze con il metro che tirano che calcano è molto bello visivamente per carità ma il realismo dov'è non c'è io ho sempre cercato a me dei wargame tridimensionali ho sempre cercato sapete cosa a me mi sono andavo subito a vedere nei wargame 3d le regole speciali perché ho sempre sognato di vedere un wargame che ti metteva nel regolamento e non nello scenario che ok faccio uno scenario ci metto io le regole speciali del scenario va bene io ho sempre cercato un wargame tridimensionale che mettesse più o meno il realismo la complessità di quei giochi per ogni wargame 3d non ho ancora trovato posso dire gli skirmish ok è però gli skirmish tante volte non è che vanno a simulare tanto e magari il tempo atmosferico il giorno e notte ok se sono regole speciali di tutto ok mi creano le missioni speciali me le credo a me va bene posso farlo però io parlo delle regole del regolamento base e non ho ancora trovato io ho sempre cercato un wargame 3d che si dimmi diventi abbastanza realistico e simulativo non c'è e l'ho trovato in questi giochi qua che vanno a sacrificare la bellezza visiva e la bellezza grafica vanno a sacrificare la tridimensionalità per presentarti un gioco dannatamente simulativo dannatamente realistico e dannatamente molto più bello bellissimo rispetto per quel che mi riguarda 3d questo è attualmente oggi quello che penso io io quello che stavo cercando nel 3d l'ho trovato in questi tipi di video qua e benissimo non fa eccessione perché è bellissimo fare il pattugamento muoversi vedere il sottomarino dove si muove nel mondo per vedere appunto le varie cose di qui di là di su e di giù tirare vedere che navi trovi cercare di affondare magari ti danneggia il periscopio ti danneggia motori allora motori sei più lento allora se sei più lento distrugge il motore devi tirare due volte sull'encounter chart perché sei lento quindi va a simulare il sottomarino che è lento e quindi ci mette di più a superare i vari singoli travel box quindi puoi fare due incontri magari te l'affondano ti danneggiano talmente tanto il sottomarino che per te magari finisce anche le munizioni finisce i siluri allora devi poi c'è le missioni speciali io alcune missioni speciali manco le ho fatte perché non mi sono capitate ovviamente perché avete visto che è tutto quanto casuale il gioco è un solitario ed è tutto quanto casuale quello che te trovi quella missione che ti ti può accadere ed è qualcosa di veramente veramente meraviglioso e questo mi ha veramente colpito talmente tanto questo gioco che ho detto è impossibile ho detto che è un gioco così bello qualcosa di veramente diverso dai soliti giochi da tavola che ho provato questo era alla fine e ovviamente questo è basato sui sottomarini italiani della seconda guerra mondiale ed è il quarto titolo cioè sono altri tre mi sa un mi sembra uno che sei controlli l'u-bot tedeschi uno quelli di america l'u-bot americane con i sottomarini tedeschi americani e uno quelli nel pacifico quindi in base appunto all'interesse che avete voi del della guerra scegliete ovviamente il quello che vi riferimento tanto visto che anche gli altri lo stile grafico del display del sottomarino è uguale quello può cambiare un paio di cosettine ma poco importa magari non troverete le missioni slc perché le missioni slc slc appunto i cosiddetti maiali e si rubri a lenta corsa che c'è anche un gioco in solitario che sarebbe molto interessato e sarebbe molto curioso di provare che buy stealth nc erano prerogativi degli italiani sono stati italiani che hanno avuto in mente questa follia di queste missioni di questi slc di questi siluri a lenta corsa per il resto un gioco spettacolare ciao di partita veramente diversa non sapete ma che cosa accade e ha un realismo ed è una simulazione poi magari uno miglior esperto viene a dire no cosa sta dicendo guarda è più simulativo questo gioco perché è più bello e più per me è bello questo ed è simulativo questo ed è bellissimo questo boy che sia il mio primo gioco della gmt e tutto quanto però è meraviglioso per quello che mi riguarda quindi assolutamente consigliato se cercate un gioco da fare in solitario un board war game che non è tanto complesso ma che a livello di regole ok magari c'è un paio di punti scuri tutorial traduttore e poi l'avete visto nel flusso è veramente molto molto semplice tiro dei dadi vedo cosa mi trovo non c'è nulla mi muovo nell'altra zona tiro i dadi a una nave vediamo che nave tiro di dado a una nave grande ok allora a che distanza risparo medio quattro solo risparo questo è semplice alla fine molto molto semplice quindi io ve lo straconsiglio se cercate anche un board war game per cominciare per capire per apprendere questo enorme mondo di questo questa tipologia di particolari di giochi molto di nicchia è assolutamente consigliato io ragazzi vi ringrazio se avete visto tutti e tre i video ho fatto appunto tre video in modo che se volete soltanto vedere i componenti vi guardate il primo video la panoramica del gioco se volete vedere il flusso di gioco che andate a vedere la parte sul nostro tavolo se volete un parere personale del gioco andate a vedere appunto questa parte qua conclusioni quindi detto questo io vi ringrazio appunto di aver visto questo video iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto attivate anche la campanella per non perdere nessun video e noi ci vediamo come sempre ad un prossimo video ragazzi ciao